Finali del terzo e quarto posto poi a seguire quelle del primo e del secondo. E' quasi giunta al termine la quinta edizione del tornio di volley misto organizzato dal gruppo genitori Sant'Orso in collaborazione con l'Avest di Fano, il CSI, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Sant'Orso Calcio e l'Ufficio Sport del Comune. L'iniziativa ha visto come protagonisti 250 genitori divisi in 20 squadre rappresentative di alcune classi delle scuole elementari e medie della città ma non solo. I ragazzini si sono prodigati nel fare nel tifo quindi hanno animato proprio la loro squadra, li hanno supportati durante il torneo e anche nelle semifinali si sono visti i propri ragazzini partecipi nel fare il tifo e quindi hanno supportato le varie squadre dando l'incitamento e facendo in modo che i genitori che giocavano al loro posto avessero una voglia superiore per poter portare i ragazzini magari in finale e come è già successo per le due squadre che sono la Montessori e l'Asilo Zizi. A prodigarsi quindi il comitato genitore Sant'Orso. Esatto, per l'ennesima volta, quinta edizione del torneo amatoriale ormai dei genitori delle scuole fanesi. Tutti i genitori ci siamo divertiti, ne abbiamo conosciuti altri rispetto agli anni passati e questo è il bello poi del torneo, conoscersi fra genitori, far divertire i propri figli che fanno il tifo e passare dei pomeriggi, delle domeniche invernali tutti insieme. Dove e a che ora sarà l'appuntamento? Allora, l'appuntamento, le finali saranno nella palestra della scuola Filippo Montesi dalle 14.30 fino circa alle 17.00. Dalle 17.00 c'è la festa nella piazzetta del centro commerciale dove verranno offerte una bella merenda, delle cibarie portate dalle varie squadre partecipanti e c'è l'animazione per tutti i bambini presenti grazie a Tira e Molla.